La bomba d'acqua che ha colpito la città nel pomeriggio di domenica non ha causato gravi danni, soprattutto a persone, eppure ha lasciato dietro di sé, oltre a qualche pozzanghera, quella e al peggioramento delle condizioni del manto stradale in alcuni punti della città dove erano già presenti delle buche, anche alcuni detriti misti a fogliame e qualche rifiuto ai lati delle carreggiate, riversandosi in particolare in corrispondenza di tombini e caditoie. Una situazione però che sta migliorando nelle ultime ore grazie alle piogge di questi giorni meno violente e anche al lavoro degli operatori della Dasti. Sin da subito infatti, così come ci dicono dall'assessorato competente, sono partiti gli interventi di pulizia straordinaria delle strade, cominciando dalle maggiori criticità.